Vi lo abbiamo, vi lo abbiamo. Cioè, noi siamo emo, emo significa... Noi siamo emo, emo significa... Oh, ma rispondi o no? Ah, se mi dai il tempo... Scusa. E-M-O, emozione, misticismo e oscurità. Ah, non è insomma era Osvaldo. Oh, cervella fritta, perché tu ti chiami Osvaldo? No, E-Osvaldo. Appunto! Che poi non ho mai capito che cavolo di nome è E-Osvaldo. È come se io mi chiamassi E-M-A-R-A. Ti chiami E-M-A-R-A? No, è per dire. Poveraccio! Ma poveraccio sarai te. Se pensi che emo è un acronimo... L'acronimo, quella parola dove le lettere rappresentano altre parole. E-M-O, Enzo Mara Osvaldo. Ma se tu ti chiami E-Osvaldo, l'acronimo è E-M-E. Enzo Mara E-Osvaldo. Che poi è anche più facile perché E-M è pure palindromo. Palindromo che si legge al contrario. Poveraccio! A noi E-M piace tutto quello che fa piangere. L'altro giorno tipo ho visto un documentario che faceva vedere la condizione della donna ancora schiavizzata e costretta a vivere in cucina dietro ai fornelli. E io pianto. Si chiamava cotto e mangiato. Cioè, dicono che noi giovani non abbiamo valori. Però non è vero. Perché così come ci sono i vecchi che i valori non ce li hanno, così ci sono i giovani che i valori ce li hanno. E noi i valori ce li abbiamo. E quali sono i nostri valori? Eh, boh. Cose tipo... La birra. I piercing. La birra l'hai già detta? Sì, l'ha già detta. La birra. Eh, ma l'ha già detta. Cioè, noi ci vestiamo di nero perché il nero rappresenta il nostro umore. Eh, allora la Peroni. Eh, abbiamo capito che ti piace la birra, ma non sai dire nient'altro. Ambulanza. Cosa c'entra adesso l'ambulanza? È palindroma. Perché? Eh, si legge al contrario. Ma non si legge al contrario, è scritta al contrario. Così dallo specchietto della macchina la leggi dritta, no? Palindromo è... Prendi Anna. E dov'è? Ah, non lo so. Ma non c'è nessuna Anna, è per dire. Immagina Anna. Come la vedi, la vedi. È sempre Anna. Sia che la vedi davanti, sia che la vedi di dietro è uguale. Poveraccia. Signora, non rida perché sennò le viene fuori un figlio così, eh. Oh, anche la mia madre ride sempre. Cioè, lei non me l'ha mai detto, però secondo me pensa che sono una ragazza. Cioè, io che sono intelligente, l'ho capito perché a un certo punto ha iniziato a comprarmi Tampax. Oh, io per non deludere le ho messi. Grande Enzo, mai deludere la madre. Ma tu vivi con lei? Beh, cioè, io tipo vivo a casa con due dei miei genitori. Giusto, come la maggior parte dei nostri amici. Ormai i ragazzi oggi hanno come minimo quattro genitori. La madre, il father e i loro nuovi compagni. Oh, che poi quel Mario sarà anche simpatico. Ma io non ho mica capito cosa ci ha trovato in lui mio padre. Ah, non l'ho capito. Non l'ho capito neanch'io. La mia mamma non vuole. Che cosa? Eh, che uso i Tampax. Ma sei rimasto ancora lì? Guarda che abbiamo cambiato discorso, eh. Stiamo parlando di dove viviamo. Io tipo vivo con la mia grandmother che ha un piercing troppo wonderful. Pensa che gli fa tutti i giri intorno all'orecchio per poi piantarcisi dentro. o a volte fischia anche. Pensa che ce l'ha anche il mio nonno. Dai? Sì, ma ha detto che si chiama apparecchio acustico e serve per sentire meglio. E questa è la dimostrazione che i piercing ti fanno sentire meglio. Ti lobbiamo, piercing. Ti lobbiamo. Grande, io ti lobo. Noi Emo siamo sempre alla ricerca di nuove forme espressive. Tipo la poesia, l'arte. Ma soprattutto lobbiamo lo shopping. Sì, ma mica lo shopping qualunque. Cose tipo... I pantaloni attillati. Le magliette attillate. I pantaloni attillati l'hai già detto? Sì, l'hai già detto. Eh, allora le scarpe attillate. Le scarpe attillate. Ma non esistono le scarpe attillate, eh? No. No. E allora mi sa che mi hanno fregato. Noi loviamo oltre allo shopping tantissimo la musica. Oh, pensa che io canto in un gruppo. Davvero? Cioè, noi facciamo emotional core. E a fine canzone, per dimostrare tutta la mia voglia di dolore, mi butto sul pubblico. No, guarda che lo fanno tutti i cantanti rock. Eh, ma il pubblico Emo si scansa. Ma si fa malissimo. Sì. Ma cosa fai, ridi? Scusa. Poveraggio. Volevo ben vedere perché noi Emo non ci possiamo divertire. Io ci sono venuta a un concerto Emo e lì mica si balla, si poga. Una volta sono caduta e mi hanno calpestata per due ore. Costole rotte, braccia e gambe spezzate, trauma cranico e tre giorni di coma. La serata più bella della mia vita. Oh, pensa che col mio gruppo t'ho anche scritto una canzone dolce dolce tenera tenera, come dolce tenera sei tu. Troppo wonderful, Enze. Come fa? Ah, la canzone dice... Non mi interessa se sei strana, tararararara. Non mi interessa se sei una nana, tararararara. Io ti robbo perché mi metti in riga, tararararara. Ma quando è che mi dai l'amicizia su Facebook? Gran bel testo, Enzo. Lo sai che anch'io da grande voglio fare la cantante proprio come Valerio Scanu? Perché chissà quanta sofferenza. Beh, secondo me non ha sofferto tanto. Lui no, ma il pubblico sì. Mi piace Valerio Scanu. Oh, eppure ero convinto che esistevano. Che cosa? Le scarpe attillate. Ma senti questo, le scarpe attillate. Ci mancava solo che diceva che aveva il tampax attillato. Eh, se non si vede. Ti loviamo, scarpa attillata. Ti loviamo. No, dai raga, non è che possiamo lovare anche la scarpa attillata, dai. Eh, ma io lovo tutto perché sono sensibile. Anch'io sono sensibile. L'altro giorno ho visto un documentario su delle persone di colore deformi e io ho pianto. Si chiamava i barbapapà. Anch'io li lovo troppissimi, i barbapapà. Solo che li fanno al mattino quando ci tocca andare a scuola a studiare cose pallose tipo la scoperta dell'America. Barbapalle. E lo possono mettere solo i vecchi. Che cosa? Il pisseg acustico. Eh, ma tu arrivi sempre in ritardo. Ti rendi conto che arrivi sempre tre ore dopo? Nei discorsi si va a tempo. Tempo. No.